Salve amiche ed amici, faccio qua questo video su due piedi fuori casa e avevo fatto un sondaggio al quale avete risposto numerosi e quindi mi sembra che sta vincendo l'opzione di fare un video su un racconto di Howard Philip Lovecraft. Però adesso voglio trattare del seguente argomento su due piedi. Sembra che si stava relativamente riappacificando la regione della Siria e dell'Iraq, ma adesso Erdogan fa intervenire l'esercito turco per attaccare le postazioni dell'esercito kurdo che ha aiutato l'Occidente a debellare l'Isis nella regione. Naturalmente questo porta a degli squilibri geopolitici impressionanti e non si può tollerare che la Turchia o che meglio il governo turco, perché non bisogna cadere in generalizzazioni, che il governo turco sta trattando di disfare con i piedi quello che si è riusciti a fare grazie soprattutto all'intervento russo e iraniano nella regione, iraniano dal punto di vista diplomatico e russo-siriano dal punto di vista militare. Questo ci svela ciò che io ho sempre sostenuto nei miei video in YouTube, cioè che dietro il Daesh o l'ISIS o l'ISIS Islamic State, ci sarebbero interessi da parte di alcuni gruppi politici ed economici turchi. Infatti non so se voi vi ricordate, ma l'ISIS, il Daesh, rubava petrolio in Iraq e nei campi petroliferi siri e li trasportava fino a Turchia, che quando i russi hanno iniziato a bombardare il Daesh hanno bombardato un'intera colonna di camion che portava il petrolio fino in Turchia, il greggio, il grezzo. Quindi, come dire, dietro il Daesh ci sarebbero potenze occidentali, ma l'esecutore nel luogo sarebbe la Turchia, è uno stato limitrofe, uno stato alleato di Nord America, che io non cito perché voi sapete come YouTube sensibile a certe cose. Nel passato non l'ho mai citato, se non mi sbaglio, ma voi potete immaginare, oltre alla Turchia, qual è l'altro stato che è alleato degli Stati Uniti nella regione, nel Medio Oriente. Si tratta di uno stato medio orientale. E veramente la situazione può degenerare perché Erdogan ha minacciato, ha minacciato Erdogan di far pervenire milioni di profughi che sono rimasti in Turchia, di farli venire verso l'Europa. E poi c'è un'altra cosa, che se Erdogan inizia a bombardare le postizioni e le postazioni kurde, i villaggi kurdi che si stavano ricostruendo e che hanno delle carceri con centinaia di migliaia di terroristi dell'Isis e di loro familiari, quelle carceri rimarranno incostudite durante i bombardamenti. E quindi fra i profughi che Ankara farà arrivare all'Europa, ci saranno molti ex terroristi, prigionieri dell'Isis, del Daesh. Quindi voglio dire, che bisogna fare? Non bisogna intervenire perché Erdogan ha detto, ma neanche a parlarne di quello che facciamo noi ai kurdi, capito? Non dovete neanche parlarne perché altrimenti continuiamo a bombardare e poi vi mandiamo i profughi a casa. Allora è una minaccia, innanzitutto di sommergerci con milioni di profughi che adesso Nazioni Unite vi hanno trovato un'isistemazione in Turchia perché non è stata idea di Erdogan riceverli. E poi ci possono venire in forma indireta i terroristi e i loro familiari del Daesh perché i kurdi dicono che se loro ci continuano a bombardare noi non possiamo garantire l'incolumità dei prigionieri del terrorismo. E allora dobbiamo aprire le carceri. Poi d'altra parte se tutti i carcerieri kurdi se ne vanno perché rischiano l'incolumità sotto i bombardamenti, le bombe possono sventrare le carceri. Quindi qualche detenuto muore, ma qualcun altro trova la maniera di scappare. Voi che ne pensate di questa uscita di Erdogan e dei governanti turchi, del governo turco, non di tutti i turchi per carità, ma dell'ufficialismo, del governo della maggioranza, forse anche della minoranza politica, dei politici turchi. Che ne pensate? Lasciate un commentario sotto questo video che io volevo trattarlo in questi giorni, questo video in modo estenso e di fatto non so se lo caricherò questa questa sera, questa notte o semplicemente lo caricherò domani in premiere. Però ditemi voi che ne pensate? Che giusto quando si stava ristabilizzando la regione e che gli Stati Uniti si stavano ritirando, Donald Trump ha ritirato le sue truppe dal lato siriano e adesso c'è un'ingerenza di Erdogan e dei turchi nel lato siriano dove vivono i kurdi. Donald Trump, secondo voi, ritira le sue truppe per permettere a Erdogan, perché la Turchia è alleata della Nato, di avanzare sui kurdi, oppure è una delle sue strategie, come ne hanno prese anche i presidenti nordamericani anteriori, inconcludenti, perché molti soldati, molti generali, molti repubblicani, oltre che democratici, stanno criticando Donald Trump per la scelta di ritirarsi dalla regione. Quindi danno più spazio ai kurdi che ci hanno aiutato a vincere i terroristi del Daesh, ma non controllano le gesta di Erdogan e dei turchi. Quindi la ritirata, secondo Mosca, secondo il Cremlino, degli Stati Uniti dalla regione, sta provocando un vuoto di potere e il vuoto si deve sempre riempire di qualcosa. E in questo caso dell'aggressione dei turchi contro i kurdi. D'altra parte i kurdi ci sono serviti quando dovevamo debellare a livello atlantico la minaccia che forse è nata proprio in Occidente, perché lo Stato Islamico è nato nei campi di attenzione dove tenevano prigionieri i terroristi di Al-Qaeda. Capito? Sono gli eredi di Bin Laden e di Al-Qaeda, quelli del Daesh, e sono nati nei campi di prigionia di Al-Qaeda, dove tenevano detenuti in Iraq, quelli di Al-Qaeda. E quindi in un certo senso continua la tradizione di fomentare terrorismo. E a chi compravano i turchi il petrolio? Poi hanno dovuto intervenire quando ha iniziato ad agire la Russia di Putin e a bombardare seriamente e a intervenire anche con le truppe a terra e i carroarmati, che lì veramente quelli del Daesh se lo sono fatti addosso. E veramente hanno iniziato a cadere come mosche. Solo quando sono intervenuti i russi, perché quando intervenivano gli Stati Uniti e intervenivano contro quelli che avevano votato Assad, contro i civili e i movimenti politici diciamo favorevoli a Assad, mentre i russi sono intervenuti contro i veri terroristi, quelli che attraverso la Nato hanno finanziato i turchi, cioè i governanti turchi. Ecco, faccio questo video corto corto perché tanto ho già assaurito il tema. Mi raccomando a voi che mi seguite, commentate qui sotto, ditemi cosa ne pensate. Fa bene Trump a ritirarsi dalla regione? Secondo voi che ne pensate degli attacchi di Erdogan? Come andrà a finire? Dei profughi che vendranno in Europa e dei possibili terroristi che i kurdi rilasceranno se li continuano a bombardare. Voi che pensate di tutto questo? Lo so che qualcuno preferisce l'isola dei famosi ballando per un sogno e tutti questi programmi, il calcio spettacolo, discutere tutta la settimana delle partite di calcio, ma ragioniamo anche su queste cose. Se questo video vi è piaciuto, dategli like, commentatelo e condividetelo con tutte le persone che conoscete affinché anche loro possano commentarlo. Un saluto, un saluto cordiale dal vostro capitan San Ten Chan e mi raccomando, seguitemi su Instagram perché io per il momento non voglio riattivare un altro account di Facebook. Mi hanno scocciato. Però per il momento c'è un profilo molto attivo di Instagram che si chiama naturalmente San Ten Chan. Per il momento non mi hanno creato problemi perché si direbbe che Instagram funziona in una maniera diversa da Facebook. In Facebook devi avere il tuo vero nome, cognome e cognome e mandargli la foto del documento. In Instagram sembra di no, che tu ti puoi registrare con le mail, metti la password e poi entri come vuoi. Io infatti ho fatto bene a emancipare il mio account di Instagram dalla account di Facebook. In questo modo mi hanno cancellato Facebook ma io entro con le mail in Instagram. Capito? Ho fatto bene a dividerlo Instagram da Facebook. Adesso che non ho Facebook non ho bisogno di iniziare attraverso la sessione di Facebook. Inizio con username e password. Bene, allora vi ringrazio di avermi seguito. Purtroppo in questi ultimi tempi faccio pochi video ma vi ringrazio perché ho un promedio di quattro ore di visualizzazioni al giorno. Vorrei averne di più per recuperare la monetizzazione e se potete aiutatemi commentando quanti miei video potete. Arrivederci e grazie dal vostro Capitan Saint-en-Chan. Ciao e grazie YouTube YouTube 2.0, non so esattamente come si pronuncia, YouTube IK 2.0 per aver fatto quella bellissima parodia su di me. Aspetto che tu ne faccia altre perché fai dei video veramente divertentissimi. Grazie mille YouTube IK 2.0, non vorrei sbagliarmi con il tuo nome, hai fatto un bel video, un bel lavoro, ti ringrazio, fanno altri, li aspetto con trepida insultanza. Adesso sono stanco e quindi taglio qua il video prima di prendere delle papere mostruose. Ciao ciao! Ciao!